Salve, leggerò il racconto autobiografico Il viaggio di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tratto da Racconti edito da Feltrinelli nel 1961. La casa di Palermo aveva anche delle dipendenze in Campania che ne moltiplicavano il fascino. Esse erano quattro, Santa Margherita Bellice, la Villa di Bagheria, il Palazzo Torrette e la Casa di Campania Reitano. Vira anche la Casa di Palma e il Castello di Montechiaro, ma in quelli non andavamo mai. La preferita era Santa Margherita, nella quale si passavano lunghi mesi anche d'inverno. Essa era una delle più belle case di Campania che io abbia mai visto. Costruita nel 1680, verso il 1810 era stata completamente rifatta dal principe Nicolò Filangeri di Coutot, padre di mio bisnonno materno, in occasione del soggiorno lunghissimo che vi fecero a Ferdinando IV e Maria Carolina, costretti in quegli anni a risiedere in Sicilia mentre Napoli regnava a Murà. Dopo però essa non era stata abbandonata come avvenne invece a tutte le altre case siciliane, ma continuamente curata, restaurata ed arricchita, fino a mia nonna Coutot, la quale, vissuta sino a vent'anni a Parigi, non aveva ereditato la versione sicula per la vita in Campania. Vi risiedera anzi quasi continuamente. Il fascino dell'avventura, del non completamente comprensibile, che tanta parte del mio ricordo di Santa Margherita cominciava con il viaggio per andarvi. Era un'intrapresa piena di scomodità e di attrattive. In quei tempi non vi erano automobili. Un treno partiva dalla stazione Lolli alle 5.10 del mattino. bisognava quindi alzarsi alle 3.30. Mi si svegliava a quell'ora sempre noiosa, ma resa per me più in fausta dal fatto che era quella stessa la quale mi si propinava l'olio di ricino quando avevo mal di pancia. Camerieri e cuochi erano già partiti il giorno prima. Ci si caricava in due landò chiusi, nel primo mio padre, mia madre, la governante ed io. Nel secondo Teresa o concettina che fosse la cameriera di mia madre, il contabile che andava a passare le vacanze con i suoi e Paolo, il cameriere di mio padre. Credo che anche un altro veicolo seguisse con i bagagli e le ceste per la colazione. Era generalmente fine giugno e nelle strade deserte cominciava ad alveggiare. Attraverso piazza Politeama e via Dante si arrivava alla stazione Lolli e lì ci si cacciava nel treno per Trapani. I treni erano allora senza corridoi e quindi senza ritirata e quando ero molto piccolo ci si tirava dietro per me un vasino da notte in orribile ceramica marrone comprato apposta e che si buttava dal finestrino prima di arrivare a destinazione. Il controllore faceva il suo servizio aggrappato all'esterno della lettura e a un tratto si vedeva da di fuori sorgere il suo berretto gallonato e la sua mano guantata di nero. Durante delle ore si attraversava il paesaggio bello e tremendamente triste della Sicilia occidentale. Credo che fosse allora tale quale come lo trovarono i mille sbarcando. Carini, cinisi, zucco, partinico. Poi la linea costeggiava il mare, i binari sembravano posati sulla sabbia. Il sole giardente ci cuoceva nella nostra scatola di ferro e alle stazioni non c'era da aspettare nessun rinfresco. Poi il treno tagliava verso l'interno, tra montagne sassose e campi di frumento metuto, gialli come le giubbe di leoni. Alle undici finalmente si arrivava a Castelvetrano, che allora era lungi dall'essere la cittadina civettuale e ambiziosa che è adesso. Era un borgo lugubre, con le fugnature allo scoperto, i maiali che si pavoneggiavano nel corso centrale e miliardi di mosche. Alla stazione, che già da sei ore esorosolava sotto il soleone, ci aspettavano le nostre carrozze, ai quali erano state adattate delle tendine gialle. Alle undici e mezzo si ripartiva. Sino a Partanna, per un'ora la strada era piana e facile, attraverso un bel paesaggio coltivato. Si andava riconoscendo i luoghi noti, le due teste di negri maiolica sui pilastri d'ingresso di una villa, la croce di ferro che commemorava un omicidio. Giunti sotto Partanna, però, la scena cambiava. Si presentavano tre carabinieri, un brigadiere e due militi, che a cavallo e con la nuca riparata da una pezzuola bianca come i cavaleggeri di fattori, avrebbero dovuto accompagnarci sino a Santa Margherita. La strada diventava montuosa. Attorno si svolgeva lo smisurato paesaggio della Sicilia del Feudo, desolato, senza un soffio d'aria, oppresso dal sole di piombo. Si cercava un albero alla cui ombra far colazione. Non vi erano che magri ulivi che non riparavano dal sole. Infine si trovava una casa colonica abbandonata, semirovina, ma con le finestre gelosamente chiuse. Alla sua ombra si scendeva e si mangiava. Succulente cose per lo più. Un po' indisparte anche i carabinieri, cui si era mandato il pane, la carne, il dolce, le bottiglie, facevano colazione, allegri, già bruciati dal sole. Alla fine del pasto il carabiniere si avvicinava a quel bicchiere pieno in mano. A nome anche dei miei militi ringrazio le loro eccellenze. E buttava giù il vino che doveva vedere 40 gradi di calore. Ma uno dei militi era rimasto in piedi e girava intorno alla casa, circospetto. Ci si rimetteva in carrozza. Erano le due, l'ora veramente atroce della campagna estiva siciliana. Si andava al passo perché incominciava la discesa verso il belice. Tutti erano muti e fra il battere degli zoccoli si sentiva solo la voce di un carabiniere che cattichiava. La spagnola Samar così. Il polverone si alzava. Poi si attraversava il belice, che era un fiume sul serio per la Sicilia, con financo dell'acqua nel suo greto e cominciava l'interminabile salita al passo. Le giravolte si succedevano eterne nel paesaggio calcinato. Sembrava non dovessero finire più, ma tuttavia finivano. In cima al versante i cavalli si fermavano, fumanti di sudore, i carabinieri smontavano. Anche noi scendevamo per sgranchirci le gambe. E poi si ripartiva al trotto. Mia madre cominciava ad avvertirmi. Stai attento ora, tra poco a sinistra vedrai la venaria. E infatti si giungeva su un ponte e a sinistra si scorgeva finalmente un po' di verzura, dei canneti e fin anche un aranceto. Erano le dagari, la prima proprietà cutò che si incontrasse. E dietro le dagari una collina ripida, traversata sino in cima da un largo viale di cipressi che portava alla venaria, padiglione di caccia che ci apparteneva. Non eravamo più lontani. Mia madre, sospinta dal suo amore per Santa Margherita, non stava più ferma. Si sporgeva ora da uno sportello, ora dall'altro. Siamo quasi a Montevago, siamo a casa. Si traversava infatti Montevago, primo nucleo di vita ritrovato dopo quattro ore di strada. Ma quale nucleo? Larghe strade deserte, case ugualmente oppresse dalla povertà e dall'implacabile sole. Nessuna anima viva, qualche maiale, qualche carogna di gatto. Ma passato a Montevago tutto andava meglio. La strada era diritta e piana, il paesaggio ridente. Ecco la villa, ecco la Madonna delle Grazie e i suoi cipressi. E salutava con gioia persino il cimitero. Poi la Madonna di Trapani. Ci siamo, ecco il ponte. Erano le 5 di sera. Viaggiavamo da 12 ore. Sul ponte era schierata la banda municipale che attraccava con slancio una polca. Noi, abbruttiti, con le ciglia bianche di polvere e la gola riarsa, ci sforzavamo di sorridere e ringraziare. Un breve percorso nelle strade, si sboccava nella piazza, si vedevano le linee aggraziate della casa e si entrava finalmente nel portone. Primo cortile, Androne, secondo cortile. Si era arrivati. Al basso della scala esterna il gruppetto dei familiari, capeggiato dall'eccellente amministratore, minuscolo sotto la barba bianca e fiancheggiato dalla potente moglie, benvenuti, come siamo contenti di essere arrivati. Su, in un salotto, l'amministratore aveva fatto preparare delle granite di limone, pessime, ma che erano lo stesso una benedizione. Io venivo trascinato da Anna nella mia stanza e immerso riluttanti in un bagno tiepido che l'amministratore, l'inappuntabile, aveva pensato a far preparare, mentre i miei infelici genitori affrontavano l'ondata delle conoscenze che cominciavano ad arrivare. Spero vi sia piaciuto e continuate a seguire Io Leggo.